Non vuole bruciare le dichiarazioni? E la visione di Monti sia formulata per andare avanti, questo mi sembra la condizione perché noi ci muoviamo sulle idee, sul progetto, non su un nome, prima di tutto, chiaramente il riferimento a Monti esiste ma noi non è che diciamo Monti e via, allora aspettiamo l'agenda Monti, un documento e il discorso di Monti intanto si delinea un bacino di consenso.